Ancora un appuntamento culturale a Modica, stavolta si è parlato di Tommaso Campailla, l'eclettico scienziato modicano, poeta, filosofo, medico e tanto altro. In questa occasione è stato esplorato come poeta. Il titolo dato all'incontro era infatti Tra speranze d'amor, vivo, beato. Dopo una passeggiata iniziata da via Tirella e proseguita per via Correre, con sosta davanti alla chiesetta di San Gerolamo e visita alla chiesa di San Paolo, ci si è recati in piazzetta Campailla, nello spazio davanti al Sifilicomio Campailla e Museo della Medicina, affidato da qualche tempo alla fondazione Salvatore Calabrese. È stato infatti il presidente della fondazione, il dottor Luigi Calabrese, a moderare la serata, che ha visto la presenza della professoressa Lucia Trombadore, Marcella Burderi e il professor Uccio Barone. Durante la serata il folto pubblico ha avuto la possibilità di seguire alcuni brani di musica barocca suonati dal giovane virtuoso flautista Emanuele Di Giacomo. Dalla serata è venuto fuori un'inedita figura di Tommaso Campailla, descritto come uomo sociale, frequentatore di feste e ben inserito nel sociale nobiliare del periodo. Uno stimolo quindi a proseguire sugli studi dello straordinario personaggio modicano, passato alle cronache come personaggio misantropo, come descritto alla fine dell'Ottocento dallo storico chiaramontano Serapino Amabile Guastella. Complimenti alla fondazione che a pochi mesi dall'affidamento del sito sta lavorando alacremente non solo alla valorizzazione del museo, ma anche alla riscoperta di un personaggio molto discusso, ma ancora con aspetti inediti da svelare. Grazie a tutti.